Un immobile di due piani a rischio crollo ma disabitato è stato sequestrato dai carabinieri a Margherita di Savoia. Il decreto di sequestro preventivo è stato emesso dal GIP del Tribunale di Foggia. Su richiesta della procura, le 11 persone con proprietarie dell'immobile sono indagate invece in concorso per omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina. Già nel 2006 l'immobile si presentava in precarie condizioni statiche e ai proprietari fu ordinato di non utilizzare la struttura e di liberarla. Nel corso degli anni, tuttavia, nonostante alcune ordinanze sindacali, i proprietari non hanno mai assolto l'obbligo di effettuare i lavori necessari per mettere in sicurezza lo stabile e risolvere le questioni igienico-sanitarie. Gli ultimi accertamenti tecnici svolti ad aprile scorso dai vigili del fuoco di Foggia, su disposizione della procura, hanno consentito di rilevare l'attuale stato di faticenza e l'imminente pericolo di crollo ai danni della pubblica incolumità. Soltanto alcuni giorni fa, proprio a Margherita di Savoia, si è verificato invece il crollo del solaio di un'altra palazzina, che fortunatamente non ha provocato danni a persone, ma solo tanto spavento.